Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati con un nuovo video Quest'oggi portiamo un video che mi avete richiesto più e più volte Soprattutto quando abbiamo enunciato le varie regole del Pro Club Abbiamo detto degli allenamenti E abbiamo dettato qualche mini indicazione per quanto allenarsi e perché allenarsi in maniera costante Però ovviamente in quel video non abbiamo enunciato quali allenamenti dover fare Vi ricordo che gli allenamenti sono la cosa più importante per ambire a vette altissime in classifica Allenarsi vuol dire conoscere al meglio i compagni di reparto Allenarsi vuol dire prendere ritmo Ma soprattutto, questa è la cosa più interessante, creare degli automatismi di squadra Che altrimenti senza allenamenti non ci sarebbero Ovviamente Pro Club non ci dà tante opportunità per fare allenamenti mirati Allenamenti in cooperativa, allenamenti dove puoi gestire una determinata azione Dove puoi allenare un particolare gesto tecnico O dove puoi provare dei moduli Quindi per allenamenti si intende ovviamente delle modalità di gioco che impostiamo noi Dei setting non predefiniti E tutto questo, come sapete, è gestito da chi è a capo della squadra O comunque chi è il capitano del team Il lavoro del coach è ovviamente molto difficile Stiamo parlando di gestire 10 giocatori in campo oltre te stesso praticamente E in più gestire anche chi non gioca in quella determinata partita Quindi c'è sia una gestione tecnica sia amministrativa E gli allenamenti sono indispensabili per il reparto tecnico Vi ricordo che gli allenamenti indispensabili a settimana sono Quelli corrispondenti alle competizioni Le competizioni solitamente si giocano dal lunedì al giovedì Proprio per questo gli allenamenti vuol dire che sono obbligatori proprio dal lunedì al giovedì 4 allenamenti a settimana minimo Io vi consiglio di partire tra le 9.20 e 9.30 massimo Proprio perché le competizioni poi si giocano un'ora, un'ora e mezza dopo E si ha tempo per fare almeno 3-4 amichevoli O 3-4 partite di divisione Ovviamente dipende dagli orari delle competizioni Ma questa è un po' la regola che può valere in maniera generale Comunque, questa è stata un intro per capire di cosa tratteremo oggi Spero che vi piaccia, andiamo nel clou del video Partiamo con i punti riguardanti gli allenamenti Via! Allora ragazzuoli, partiamo col primo allenamento che andrebbe fatto Una tantum Stiamo parlando di giocare contro la CPU E giocando contro il computer praticamente Vi ho spiazzato perché il primo punto non ve l'aspettavate che fosse questo tipo di allenamento So sicuro, so sicuro Però una tantum, questo vuol dire una volta ogni 10 giorni Una partita ogni 15, una partita a settimana, una partita al mese Quando volete Fate una partita a livello massimo, quindi difficoltà massima Con varia tipologia di gioco della squadra avversaria Pressing, linea difensiva bassa Settatelo come volete O come preferite in base al vostro allenamento Perché il computer si posiziona Soprattutto difensivamente parlando In base alle impostazioni Con un certo criterio Ti dà un po' più di libertà nel giocare Non c'è quel pressing forse nato assoluto Però hai più possibilità di fare delle prove Io sono sicuro che per questo punto non siamo d'accordo in toto Chi sta vedendo questo video dirà Eh ma non serve a nulla Tanto poi dovrò giocare sempre contro gli umani Che si muovono in maniera differente Fanno cose strane Non fanno cose ordinarie Che vedi fare in divisione Sì, questo è vero Ma se vi prendete l'abitudine di giocarci qualche volta Vedrete che ne trarete vantaggio Giocando in maniera opposta a quella del gioco stesso Capirete alcune meccaniche Che spesso vi sfulgono Giocando con squadre reali e squadre umane Quindi state attenti al minimo dettaglio Al minimo movimento Che può restarvi utile Ragazzi, cosa miglioriamo con l'allenamento CPU? La fase di possesso sicuramente Il palleggio verrà incrementato in maniera esponenziale Dettato dal fatto delle meccaniche un po' diverse rispetto all'usuale I movimenti I movimenti c'è tempo per posizionarsi in maniera consona Ma soprattutto fare il movimento Quindi andare incontro e scappare Con una certa facilità Come già accennato nell'intro Tra virgolette di questo primo punto Si possono testare più moduli C'è la possibilità di essere tranquilli Che il computer giochi in quel modo Con quella filosofia E capire se un determinato modulo può funzionare O meno E ovviamente grazie ai movimenti Anche il posizionamento primario Ossia quello che vale Per la maggior parte delle azioni Ossia un difensore Ha un determinato posizionamento Quando deve fare la diagonale difensiva E contro i bot funziona Perché loro seguono alla lettera Il loro modulo E le loro posizioni E quindi danno dei riferimenti Che possono essere utili Per posizionarsi nel miglior modo Passiamo al secondo punto Fare allenamenti sui calci d'angoli E sui calci piazzati Questo vuol dire che Tutto ciò orbita Intorno a quello che è il concetto Di calcio di punizione o corner Calcio di punizione che va inteso Anche come rivio dal fondo Cioè calcio da fermo Oppure rimessa laterale Cioè tutte le azioni passive Dove si interrompe il gioco E va rimessa in gioco la palla Perché vi dico tutti? Perché quest'anno ad esempio Il lancio lungo dal portiere Verso l'esterno Dove la punta boa spizza Lungolinea È fondamentale ragazzi Questa è una meccanica Che va gestita alla grande E solo provandola funziona Oppure la rimessa laterale Dove funziona Nelle 1 triangolo al volo Passandola all'indietro Al compagno che ti sta più vicino Che lancia lungo Nel senso opposto Se non la provate ragazzi Più volte durante la serata Non funziona Ovviamente questi test Vanno provati quotidianamente La cosa più importante È che bisognerebbe anche Numerare Quelle che sono le scelte Le opzioni Di impostazioni Di questi calci da fermo Ossia Se abbiamo i calci d'angoli Come abbiamo visto L'anno scorso Il video sui corner Vanno settati Quei 4-5 Calci d'angoli Con 1-2-3-4-5 Cosicché Quando chiameremo il numero 4 Sul calci d'angolo Tutti sapranno come muoversi Settare i calci d'angoli Con i vari movimenti È molto personale Però sapete benissimo Che il contromovimento All'interno dell'area di rigore È difficile da gestire Soprattutto dai difensori E se si è molto in movimento In aria Molto spesso Quest'anno Si segna da calcio d'angolo Tutto questo ovviamente Implica anche Di studiare Anche le marcature In fase difensiva Questo vuol dire I calci d'angoli Per gli avversari Bisogna marcare a uomo I difensori Quelli più alti Prendono gli attaccanti più alti E dobbiamo lasciarli Uno contro uno Cercando di non staccarsi Troppo dalla marcatura Allenarsi In fase offensiva Optando per Tutti quegli x Calci d'angoli Che si conoscono E in fase difensiva Allenare la marcatura E tenere almeno Un giocatore bassino Sul primo palo Per dare delle indicazioni Del genere Per far capire Gli altri giocatori Come devono fare Dove devono posizionarsi Ci sono varie piattaforme Ci sono varie possibilità Dove fate vedere Tutte le vostre idee Sono rivolte ovviamente Ai coach Tipo vi prendete Una bella clipboard Gli direte dove posizionarsi Oppure ci sono tanti programmini Abbiamo visto anche un video Molti mesi fa Riguardante ciò Andatelo a vedere Se non l'avete visto Arriviamo al punto focale Cosa miglioriamo Con i calci d'angoli I calci da fermi I calci piazzati Settati L'organizzazione di squadra Sì perché una squadra Che sa quello Che deve fare In queste situazioni È la classica squadra Che poi vince Le partite toste Quelle difficili Quelle che non si sbloccano Molte volte Le squadre più forti Vincono proprio così Con impostazioni di gioco Sui calci da fermo Il timing Il timing è fondamentale Capire quando parte il cross Capire quando parte il passaggio Capire il movimento Dell'avversario Aumenta La comprensione Del tempo Che passa Dal movimento Del giocatore Prima che batta Al tuo movimento Prima che riesca A reagire All'input del joystick Anche perché Quest'anno Rispetto all'anno scorso C'è quel leggerissimo Sempre input lag Riguardo al movimento E ovviamente Come già citato poco fa Comprendere i contro Movimenti Che vanno fatti Passiamo Al numero 3 Possesso A due tocchi Questo vuol dire Che sceglieremo Magari Una partita Serale Quindi va fatta Quindi va fatta questa cosa Magari Nelle prime partite Della serata Di gioco Forse io Vi consiglierei Proprio la prima Partita serale Dove vanno messi Massimo due tocchi Incluso anche Il passaggio di prima Anzi E' super consigliato Se si è Spalla la porta Appoggiare di prima E questo Aiuta moltissimo La squadra Due tocchi Perché inizialmente Siamo un po' Compassati la sera Non parlo come Noi Retorico Bensì come Un noi generico Io so benissimo Che tutte le squadre La prima partita Fanno un po' Fatica E bisogna Sbloccarsi E cercare di andare Ad una certa velocità Proprio per questo Tutti devono organizzarsi Per essere sempre In zona luce Per accaparrarsi Quella che è la linea Di passaggio Disponibile E' molto difficile Soprattutto quando giochi Con squadre attrezzate Ma una volta che ti abitui Hai sempre il riferimento Del compagno Nella posizione giusta Ti limita un po' Sulla gestione della palla Perché a volte In questo gioco Bisogna fare più di due tocchi C'è poco da fare Si è utile in questo gioco Passare la palla Ma non per forza In due tocchi Però questo allenamento Ti aiuta tantissimo E se riuscirà Vedrai che gli avversari Andranno in difficoltà estrema E gireranno a vuoto Tutto questo Non è detto che la palla Debba essere per forza a terra Può essere anche alzata Con un lancio a due tocchi Con un lancio di prima E lì si fa lo step successivo Perché poi In partita Competitive In partita di divisione Fare una giocata del genere Di prima alta Significa praticamente Quasi fare gol Cosa si migliora Con questo allenamento Sicuramente L'orientamento Perché se non si è orientati Bene con il corpo Ragazzi La palla poi si passa male La cosa che si sbaglia Tantissimo È il capire Come posizionarsi Con il corpo Perché fare questo allenamento Vuol dire anche Vedere tanti Tanti passaggi Sbagliati Ma non sbagliati Perché l'avversario Intercetta Ma perché si passa storti E il passaggio Arriva lento 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 E l'azione diventa Più compassata Più irrigidita Allora Avendo le spalle Orientate Verso la direzione Del passaggio Della palla La palla Andrà a buon fine E sarà stoppata Con facilità Dal tuo compagno Di reparto E andando a questi ritmi Elevati Soprattutto di capoccia Si aumenta Quella che è La prontezza di gioco E tutto questo È correlato Anche alla velocità Mentale Quindi rapidità Con le mani Ma anche rapidità Qui Andiamo al quarto punto Il quarto punto È incentrato Soprattutto Alla fase difensiva Ma non solo Perché parliamo Di linea difensiva Un po' più alta Rispetto al solito E abbassarci Quando è doveroso Quindi parliamo Di linea difensiva E i difensori Sono i protagonisti Non solo loro Perché tutto questo Concerne anche Un discorso di pressing Quindi l'allenamento È quello di avere Una sorta di Fisarmonica Di movimenti Dove vengono Ovviamente Chiamati Dal difensore centrale Nella difesa tre Dal difensore in mezzo Nella difesa quattro Da uno dei due difensori centrali Tutti devono seguire La sua linea difensiva Ma questo Concerne anche Un alzarsi Dei mediani Un alzarsi Degli esterni Un alzarsi Degli attaccanti In fase di pressing L'allenamento Consiste nel chiamare Chiamare Saliamo Ma questo non deve essere Una cosa Drastica Questo vuol dire Che non è che ogni azione Che la palla La gestisce l'avversario Va chiamato Saliamo Altrimenti diventa Un allenamento Che diventa Forviante Diventa quasi Non indispensabile Perché gli avversari Capirebbero Il movimento E comincerebbero A lanciare In continuazione E sarebbe Un pochettino Deleterio Quindi chiamare Nel momento giusto In successione Quindi magari Una volta sì Una volta no La chiamata alta Tutto questo Però non deve essere Confuso Con il concetto Di fuorigioco Perché il fuorigioco Si va fatto Quando viene chiamata La difesa alta E la squadra alta Però in questo gioco Fare il fuorigioco È pericolosissimo Perché i lanci Sono tagliatissimi E velocissimi Degli avversari E a volte Non si ha il tempo Di gestire bene La linea Quindi alzare la linea Vuol dire accorciare E solo pochissime volte Fare il fuorigioco A noi successi Di provare A fare il fuorigioco In maniera costante E prendemmo Veramente Tanti tanti gol Quindi è giusto Allenarsi Ma con criterio In tutto questo Devono anche essere bravi Come già detto I centrocampisti E coloro che gestiscono La fase offensiva Perché il primo pressing È fondamentale Per rubare la palla Agli avversari Quindi cosa miglioriamo Con questo allenamento La fase difensiva Ovviamente Quindi il difendere E capire Dov'è l'avversario E mantenere La linea La linea La fase di pressing Come già detto Quindi il pressare Il portatore Ma anche pressare La linea di passaggio Questo potrebbe essere Un allenamento Conciliato All'allenamento Della linea Perché pressare Sul portatore di palla Conferisce L'idea Che qualcuno Invece poi Debba pressare Sulla linea di passaggio Cosa miglioriamo In più anche l'anticipo Essere corti Sull'avversario Vuol dire a volte Anche anticiparlo Questo gioco Ragazzi è fondamentale E ovviamente Aumenta anche La facilità di contatto Con l'avversario Quindi la marcatura Strettissima E comprendere A meglio I suoi contromovimenti Andiamo al quinto Ed ultimo punto Degli allenamenti L'allenamento Più importante Forse in assoluto Che tutti fanno Già È quello Delle amichevoli Ragazzi Le amichevoli Contro le squadre Anche più forti di noi Noi sempre generico È un allenamento Incredibile Perché capiamo Cosa fa una squadra Più forte di noi Tecnicamente parlando Ma non servono Tantissime Tantissime Amichevoli Perché altrimenti Poi alla quinta Amichevole Sesta amichevole Di alto livello Si perde la concentrazione Bastano due Tre A serata Fatte super super bene Le squadre attrezzate Le vedi Perché ti fanno Scendere con la linea Difensiva E ti fanno capire Come gestire la palla Come andare da destra A sinistra Da sinistra a destra La cosa più importante L'allenamento È farlo con gli occhi Quindi vedere Come giocano Gli avversari Questa cosa Di captare Il gioco degli altri Non la si fa Molto spesso A volte Quando si giocano Questi amichevoli Si ha solo L'impressione Di voler Non subire gol E difendersi E basta E lì è sbagliato In quei casi Si bisogna difendere Per non subire gol Ma bisogna anche capire Come fanno gli avversari A giocare in quel modo Bisogna cambiare Prospettiva Sembra una cosa semplice Da capire Da comprendere Ma a volte Perdiamo quello Che è il nesso Dell'allenamento Cioè l'amichevole È un amichevole Per capire Come giocare E se si è solo passivi Nel voler difendere Un avversario più forte Non si migliorerà mai Anzi io direi Di salvarvi Quelle partite E annotarvi Tutte Su cui prendere spunto A volte Sono sincero Ho copiato Qualche soluzione Di gioco avversaria Che possa essere Uno schema Che possa essere Non so Un lancio In un determinato contesto Che possa essere Anche un gesto tecnico Una finta Oppure un'uscita Del portiere Tutto questo Tutto questo Va analizzato Cioè si gioca Quest'amichevole E dovrebbe essere Anche rivista Se stiamo parlando Di un amichevole Interessantissimo Ovviamente Cosa miglioriamo Con queste amichevole Studiate E contro avversari forti Una concentrazione Ai massimi livelli Sì perché Se non si è concentrati Al 100% Prima cosa La partita si perde Seconda cosa È deleterio Perché si perdono Quelli che sono Gli stimoli Quella che ha voglia Di combattere E voler competere Variare le giocate Perché a volte Le giocate ordinarie Contro queste squadre Non funzionano Provare una cosa nuova Una cosa innovativa Solo cambiando Qualcosina Qualche gesto tecnico All'interno Della propria Veloseologia di gioco Si è imprendibili E quindi fare la giocata Inaspettata Anche per il compagno Di reparto Può essere decisivo Per scardinare La squadra avversaria E forse la cosa Poi in assoluto Più importante Che si incrementa Quella che è La mentalità Vincente Le squadre più forti Hanno una mentalità Decisa Forte Sanno di essere Molto forti E lo dimostrano In campo Essere passivi Come negli scacchi Non porta A risultato O comunque Difficilmente In una partita del genere Riesci a vincere Essere passivi Ragazzi Vi fa vincere Magari una partita Ma non vi fa vincere I campionati Ovviamente Cosa si migliora La coesione del team Quindi il conoscersi Gli uni con gli altri E tutto questo Ovviamente Va di pari passo A quello che è Il ritmo di gioco Aumentare Aumentare sempre di più La velocità Negli scambi Ma la cosa più importante È imporre la propria Filosofia Avere Un'idea di gioco Comune Per tutta la squadra Abbiamo terminato Con questi allenamenti E spero che vi siano piaciuti Lasciate un like qua sotto E attivate la campanellina Per questi tipi di video E molti molti altri Spero che sia stato interessante E date anche voi Dei consigli Per ulteriori allenamenti Non potevo ovviamente Andare oltre Perché altrimenti Diventava pesante il video Ma se avete altre idee Scrivete qua sotto E magari facciamo anche Un altro video in futuro Mi raccomando Testa bassa E pedalare Interagite come sempre Un saluto da Johnny Ciao Ciao